Al via il bando per promuovere e sostenere l'accoglienza dei bambini da 0 a 3 anni con l'assegnazione di voucher per famiglie con figli di età inclusa in quella fascia che frequentano asili nido privati iscritti all'albo regionale o all'albo comunale nell'anno educativo 2022-2023. Il Comune di Caltanissetta ha così tra i suoi obiettivi quello di sostenere le famiglie e facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro una misura per abbattere i costi della retta mensile che i genitori devono sostenere per la frequenza dei propri figli agli asili nido. Il modulo per presentare la richiesta si può scaricare facilmente dal sito del Comune di Caltanissetta ed una volta compilato si dovrà inviare entro le 12 del 30 dicembre 2022.